Quasi 10 milioni di azioni di CARIM, circa 5,5 milioni di quelle CARI-Cesena. Credito Agricol Cariparma annuncia che i piccoli azionisti delle due banche acquisite hanno deciso di aderire all'offerta pubblica di acquisto lanciata dal colosso francese, cedendo le proprie azioni per circa due terzi del totale. Il periodo di adesione si è concluso lo scorso 18 maggio e ha riguardato gli azionisti della Cassa di Risparmio di Cesena, di quella di Rimini e anche di San Mignato, ad esclusione delle fondazioni bancarie, banche o intermediari finanziari, compagnie di assicurazione e altri soggetti istituzionali. Con riguardo all'Istituto Cesenate, le azioni cedute a credito Agricol sono pari al 64,5% del totale oggetto dell'OPA, a cui sono abbinati circa 22 milioni di warrant per una corrispettiva upfront di 2.780.000 euro. Sul fronte riminese, le azioni vendute sono il 64,2% dell'offerta e il corrispettivo in questo caso è di circa 1.926.000 euro. Dal momento che il gruppo francese acquisirà molto più della metà delle azioni oggetto delle offerte, come da regolamento, riaprirà i termini del periodo di adesione per 5 giorni lavorativi dal 28 di maggio, in modo da consentire la partecipazione anche ad altri azionisti.